Tamponi di massa, si parte venerdì fra Santa Marta, Campus e Vitrifrigo Arena. Prostituzione a Fano, la polizia scopre quattro case d'appuntamento. Baia Flaminia, taglio del nastro al nuovo parcheggio. Vio di gestora e resta alta la preoccupazione dei cittadini di Vallefoglia. Vio di gestora e resta alta la preoccupazione dei cittadini di Vallefoglia. E ben ritrovati a Rossini News, il nostro appuntamento della sera con il telegiornale che vi propone tutte le principali notizie della provincia di Pesorurbino e della regione Marche. Apriamo il nostro Tg occupandoci di sanità e in particolare di prevenzione al Covid-19. Venerdì partirà infatti a Pesaro lo screening di massa con tamponi gratuiti e volontari a disposizione della cittadinanza come disposto dalla regione Marche. Dove e come si effettueranno ce lo spiega il nostro primo servizio. Vitrifrigorena, palestra del liceo Marconi al campus scolastico e alberghiero Santa Marta. In questi tre luoghi della città di Pesaro comincerà da venerdì 18 dicembre lo screening di massa voluto dalla regione Marche che permetterà di sottoporre a tamponi rapidi oltre 800.000 marchigiani. Sono 30.000 quelli che si auspicano di processare a Pesaro per un test che è gratuito, volontario e rapido. A differenza del tampone molecolare il risultato sarà riscontrabile in circa un quarto d'ora. A Pesaro tamponi di massa dal 18 al 23 dicembre. Si parte infatti con le città capoluogo di provincia mentre a gennaio lo screening si sposterà negli altri territori regionali. Non occorrerà prenotarsi, ci si presenterà nei tre luoghi cittadini indicati, si compilerà un modulo scaricabile dal sito della regione Marche o che verrà distribuito in loco dai volontari, dopodiché ci si metterà in fila per sottoporsi al test rinofaringeo. Resta da capire di che portata saranno le code e i tempi di attesa. Per chi risulterà negativo al test, l'esame si riterrà chiuso. Per i casi positivi invece si rimane sul posto, si viene subito sottoposti a tampone molecolare e in attesa del risultato si entra in isolamento domiciliare. Non potranno effettuare i test i bambini sotto i sei anni, chi ha già avuto il covid, chi mostra sintomatologia in corso e chi effettua regolarmente test per motivi professionali. I tamponi di massa verranno incanalati in base alla residenza. Al Santa Marta si arricchieranno infatti i residenti di Centromare, Porto, Muraglia e Montegranaro. Alla Vitrifrego Arena quelli di Soria, Tombaccia, Torraccia, Vismara, Cattabrighe, San Bartolo, Borgo Santa Maria, Case Bruciate, Villa Fastigi e Villa Ceccolini. Al campus andranno invece i residenti di Pantano, Cinque Torri, Celletta, Santa Veneranda, Villa San Martino, Novilara, Candelara e Monte Ciccardo. Il campus sarà anche dedicato a tutte le persone con disabilità a prescindere dal quartiere di residenza. Come ogni lunedì il servizio sanitario regionale processa un numero inferiore di tamponi rispetto agli altri giorni della settimana. Il dato di oggi però denota una crescita dell'incidenza percentuale di tamponi risultati positivi che passa dal 20 al 29%. Nel dettaglio sono 174 i casi positivi riscontrati su 582 nuove diagnosi per un totale di 1.075 tamponi processati. Di questi sono 41 i casi positivi rilevati nella provincia di Pesero Urbino. Per quanto riguarda invece i decessi, nelle Marche sono purtroppo venute a mancare 10 persone nella giornata di ieri. E continuiamo a parlare di test medici perché a Pano è stata inaugurata nella zona Codma una nuova struttura per tamponi e vaccini. Si tratta di uno spazio no covid di 100 metri quadrati a disposizione dell'area vasta 1 e realizzato attraverso tecnologie all'avanguardia finalizzate per agevolare il sistema sanitario. Il servizio è di Simone Celli. Il tampone per togliersi il dubbio e il vaccino a tempo debito per scacciare via la paura. Tutto questo in un solo posto. La nuova casetta no covid appena inaugurata, realizzata all'interno del villaggio del CB Club Mattei al Codma di Fano. Uno spazio di 100 metri quadrati ora a disposizione dell'area vasta 1 per effettuare screening e per le future vaccinazioni. Costruito attraverso tecnologie innovative come il sistema Home Done che unisce acciaio e polistirene per garantire resistenza, leggerezza e comfort. Da oggi Fano ha un nuovo punto di riferimento per i tamponi. Sì, una nuova casetta a disposizione perché Angelo Candieracci, proprietario del C Engineering, tempo fa ci ha messo a disposizione questa casetta per la protezione civile per fare formazione ma attualmente la formazione è ferma. Abbiamo cercato qualche scuola che se serviva per qualche classe non è servita e abbiamo cercato in mezzo all'associazionismo se qualcuno aveva bisogno per un dopo scuola non abbiamo avuto risposte. Da lì in pratica l'idea di mettere a disposizione per il distretto sanitario per i tamponi hanno accolto di buon grado e quindi stamattina con le dovute modifiche fatte per il caso la mettiamo a disposizione dell'Asur, in pratica del distretto sanitario che da domattina in poi si sposterà dalla vecchia sede e porterà qui in pratica tutta la parte dei tamponi. È un bel momento per Fano oggi? Sì, questa è la Fano che mi piace, è quella Fano che sa sempre unirsi, sa fare squadra e sinergia quando ci sono momenti difficili. Questo è un caso specifico dove un imprenditore caldiracci ha voluto donare al territorio, alla protezione civile che qui a Fano è un'organizzazione straordinariamente efficace e efficiente, è questa struttura a disposizione della città. Ovviamente questa viene utilizzata per questa situazione particolare, per i tamponi, tra un po' partiranno anche i tamponi di massa e quindi messa a disposizione, accompagnata con un'organizzazione efficace, efficiente come dicevo prima. Ecco, la cosa che mi piace sottolineare è che questo modo di lavorare porta un vantaggio poi ai cittadini, che li fa sentire più sicuri, li fa sentire accompagnati e vicini da un'organizzazione spettacolare come quella del volontariato, come quella dell'amministrazione e la cosa che è accaduta in questi anni, che nei momenti difficili ci ha sempre trovati pronti, disponibili ma soprattutto capaci di dare risposte. Noi siamo quelli che abbiamo fatto la realizzazione con la protezione civile qui di Fano, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e vista la flessibilità da una scuola l'abbiamo trasformata in punto per i tamponi oppure domani anche per le vaccinazioni e tutto il resto. Quindi sarà un bellissimo servizio per la città? Io penso proprio di sì, anche perché ce n'è bisogno adesso. Dopo i quasi 3.000 saturimetri donati dal comune di Pesaro alle famiglie con persone sopra i 65 anni, da domani i saturimetri saranno anche in vendita nelle farmacie comunali al prezzo di 19 euro, ovvero a metà prezzo. E questo è il nuovo accordo raggiunto da Asso, FarmConf Servizi Cispel e farmacie comunali Pesaro e Gabicce in un'operazione in funzione della prevenzione sanitaria. Ed ora la cronaca cominciando da Fano per occuparci di una storia di favoreggiamento della prostituzione. La polizia di Fano ha infatti scoperto quattro appartamenti in zona Sassonia, gestiti in autonomia da due donne cinesi e altre due sudamericane trasformate in case d'appuntamento e luoghi di incontro per sesso a pagamento. Una delle due cinesi era sprovvista di permesso di soggiorno ed è stata espulsa dal territorio nazionale. Nel corso dei controlli sono stati identificati anche diversi clienti. A Pesaro invece un uomo moldavo è stato arrestato per aver aggredito un agente di polizia penitenziaria fuori servizio durante la serata di sabato sera. L'agente stava percorrendo via Ferraris quando assistito ad un'accesa lite familiare con l'uomo in questione che si stava scagliando contro moglie e suocera che tra l'altro stavano tenendo in braccio il figlio. L'agente è intervenuto per sedare la lite ma è stato malmenato rimediando la frattura di una costola. Sono intervenute due pattuglie che hanno fermato e arrestato il moldavo che si stava dando alla fuga. Un vasto incendio nella notte fra sabato e domenica ha distrutto due garage di via Nicotera in zona Pantano. Due famiglie sono state svegliate alle tre di notte dopo uno scoppio derivato da un probabile cortocircuito che ha portato ad evacuare tre appartamenti abitati anche da anziani dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Sedato il rogo attorno alle 5 non si sono registrate persone ferite mentre purtroppo è morto uno dei tre gatti presenti nelle abitazioni. Ingenti invece i danni materiali, due garage distrutti così come un'automobile e uno scooter. Lutto nell'industria marchigiana è morto ieri a 93 anni Antonio Merloni, uno dei più grandi contoterzisti di elettrodomestici d'Europa, prima con l'Ardo e poi con l'Antonio Merloni S.P.A. persona molto stimata anche dagli operai dell'azienda e dalla comunità di Fabriano in cui fu anche sindaco per tre mandati fra il 1980 e il 1995. Un altro lutto per l'imprenditoria marchigiana dopo che sabato è venuto a mancare Ermanno Ferri, fondatore della Febal e presidente della Vispesero negli anni 80. Una denuncia per aver violato l'isolamento obbligatorio e cinque sanzioni amministrative per mancato uso di mascherina o mancato rispetto del divieto d'assembramento. E' questo il risultato dei controlli delle forze dell'ordine che fra sabato e domenica hanno controllato 783 persone su tutto il territorio provinciale. Sono state anche controllate 243 attività commerciali, ma senza riscontrare illeciti. Ma riassunta, Bagnara è la nuova presidente del comitato UISP Pesaro Urbino. Si tratta della prima presidente donna della storia del comitato rossignano. La Bagnara succede a Simone Ricciatti, che ha guidato l'ente di Via Mameli per quattro anni. Cambiano sosta e viabilità a Baia Flaminia. Dopo l'entrata in funzione della nuova rotatore e lungo foglia delle nazioni, questa mattina c'è stato il taglio del nastro al nuovo parcheggio in Viale Belgrado alla presenza del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore all'operatività Enzo Belloni che ci illustra la funzionalità di quest'area di sosta. È un intervento strategico che ci permetterà di dare una nuova viabilità a Baia Flaminia, una volta che avremo condiviso il percorso con le attività, con i residenti, soprattutto con il Consiglio di quartiere. È un parcheggio che ha impegnato l'amministrazione comunale per 200.000 euro, una cifra che arriva dalla monetizzazione parcheggi. Sono complessivamente 79 posti auto, due dei quali riservati alle auto elettriche, quindi con la predisposizione per la ricarica. All'inizio è stato ovviamente un po' contestato, molti si sono ricreduti. Una volta visto l'intervento, sostanzialmente si pensava che avessimo disboscato tutto, invece abbiamo abbattuto quattro piante, l'abbiamo modellato in maniera tale di non abbattere ulteriori pianti. Il vecchio piano regolatore prevedeva la realizzazione del parcheggio lungo Foglio delle Nazioni con parcheggi previsti a spina di pesce e con l'abbattimento di 70 piante. Noi abbiamo fatto un intervento totalmente differente, diverso, che ripeto, darà una bella risposta a quella che sarà la nuova visione di Baia Flaminia da qui alle prossime estati. Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia, dove la prospettiva di realizzare il biodigestore a Talacchio sta suscitando preoccupazione in diversi residenti. Ascoltiamoli nelle interviste realizzate da Andrea Sabatini a margine della inaugurazione della nuova piazza di bottega. Abbiamo ritenuto importante far vedere che la cittadinanza è assolutamente preoccupata, vuole manifestare la propria preoccupazione al sindaco e all'amministrazione che oggi inaugurava questa piazza. Abbiamo purtroppo dovuto registrare ancora una volta che il lunedì faranno una presentazione di tipo monotematico senza averci invitato, come il sindaco invece aveva preannunciato anche alla vostra televisione. Siamo preoccupati anche del fatto che la nostra amministrazione, che in questo momento è là nell'angolo, non intende parlare con i cittadini che sono qua per manifestare un dissenso, una preoccupazione crescente di fronte a questo mega impianto. Quindi registriamo ancora una volta questa posizione che ci rattrista. È il nostro sindaco, dovrebbe portare avanti le nostre istanze, le nostre preoccupazioni. È istituzionalmente previsto che si faccia portatore di quelle che sono le situazioni della comunità, invece anche in questo momento non riusciamo ad avere un confronto. Questo purtroppo dobbiamo registrarlo. Continua la nostra raccolta firme. Noi come associazione abbiamo da sempre detto che intendiamo manifestare il dissenso in maniera civile, educata, senza per questo rinunciare a far valere i nostri diritti. Noi abbiamo voluto essere presenti proprio per dimostrare il nostro dissenso in quanto siamo molto preoccupati per la nostra salute abitando qui a Vallefoglia, quindi a pochi centinaia di metri da quello che sarà ipoteticamente l'ubicazione del biodigestore. E questa è l'unica motivazione, che penso sia una motivazione molto valida, proprio per la salute nostra e dei nostri figli. Poi anche noi, tutti questi camion che gireranno nel nostro comune non è che sia il massimo. La preoccupazione c'è. Siamo preoccupati come cittadini per la nostra salute e anche molto preoccupati per la mancanza di informazione che non abbiamo avuto, soprattutto dall'amministrazione comunale, che è parte del ragionamento. e quindi abbiamo fatto questa protesta pacifica nel rispetto delle leggi e dei problemi della pandemia, per far sentire la nostra voce, visto che non abbiamo avuto ancora risposte, nonostante come associazione ci siamo mossi e abbiamo chiesto molte informazioni che però non abbiamo avuto. Devevamo seriamente esprimere che siamo seriamente preoccupati per la salute nostra e soprattutto per quella dei nostri figli e nipoti. Sinceramente siamo un po' dispiaciuti di come siamo venuti sapere della cosa che nessuno ci abbia mai avvisato e ci abbia detto come stanno le cose. Una raccolta firme che sta raggiungendo sempre più numeri, nella speranza che poi venga però ascoltata. Sì, mi auguro di sì, perché sinceramente noi siamo in modo pacifico e cercheremo di parlare con il signor sindaco per avere un confronto nulla di che, sperando che ascolti il nostro segnale per il biodigestore, per la nostra salute, per i nostri figli, i nostri nipoti, un po' per tutto, dai, diciamo. Lo sapevamo, sono festività natalizie più sobrie quest'anno nel centro storico di Pesaro, ma una piazza del popolo più spoglia viene comunque arricchita dalla novità del presepe di ghiaccio che è stato inaugurato nel weekend. Il presepe fosse un segno importante quest'anno e normalmente, diciamo, questa piazza era molto più compressa, non solo di persone, di stand, eccetera, quindi, diciamo, un po' anche la sacralità del presepe, a parte le luci dell'albero, rischiava di essere, diciamo, un po' compressa, compromessa. Quest'anno, con spazi diversi, abbiamo pensato che fosse importante invece un segno come quello del presepe, e farlo in maniera anche creativa, innovativa, grazie agli artisti dell'Accademia Nazionale, degli artisti del ghiaccio e grazie, ovviamente, alla partecipazione che risponsono importanti, come Riva, Colta, tra l'altro, specialista del settore, e Guerra Graziano Autotrasporti, perché abbiamo scelto di dare questo segnale di, diciamo, di stupore, di bellezza, ma anche un modo per poter fruire di un'opera d'arte, in un momento in cui i musei sono chiusi, le altre opportunità artistiche sono un po' più, diciamo, incalando. Abbiamo, diciamo, accettato volentieri questa iniziativa che è stata fatta dal Comune di Pesaro, anche perché poi noi siamo proprio produttori di impianti per la rifrigerazione, quindi ci sembrava proprio il caso di essere noi a partecipare a questa iniziativa, e anche, visto il momento che stiamo vivendo tutti quanti col Covid, magari così di vivere in modo un po' più piacevole, anche il Natale, quindi tutte le, diciamo, le iniziative che fa il Comune per farci vivere queste feste in maniera abbastanza piacevole. Eravamo molto affezionati alla piazza piena di gente, di mercatini, di eventi, ma quest'anno abbiamo dovuto e voluto rinunciare, perché dovrà essere un Natale intelligente e di grande responsabilità, al tempo stesso per mantenere il clima natalizio, l'albero, il trenino, le luminari, le luminari artistiche nei borghi, anche questo presepe, che ha anche un valore simbolico, perché ci sono alcuni personaggi che hanno a che fare con l'identità pesarese, quella musicale come Rossini, quella della poesia dialettale come Pascolone, anche alcuni personaggi folcloristici, diciamo, che Pesaro ha avuto come ciclone, e ovviamente i personaggi classici del presepe, perché comunque ovviamente il Natale è la nascita di Gesù Cristo, e quindi è un momento religioso importante, il presepe è un simbolo identitario sia dal punto di vista religioso che culturale, e poi anche questa dedica ai pescatori di Mazzara del Vallo, perché da tanto tempo sono sequestrati e abbiamo bisogno di continuare questa battaglia per liberarli il prima possibile, anche attraverso queste iniziative simboliche. Siamo molto contenti, e chissà mai che già anche il prossimo anno, magari una volta che ci saremo liberati dal virus, torneremo a fare festa, torneremo a riempire la piazza, ma al tempo stesso il presepe di ghiaccio rimarrà grazie a questi splendidi artisti una novità confermata anche per i prossimi anni. Ed ora allo sport, andiamo a vedere quello che è successo nel fine settimana per quanto riguarda VL, Vispesero, Alma Juventus Fano e ItalService. Seconda sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesero, che dopo Treviso perde anche alla Vitri Frigo Arena contro la Fortitude Bologna. 70-78 il risultato finale. Non bastano i 19 punti di Massenat di fronte ad una difesa troppo permissiva per il disappunto di coach Yasmin Repesia, che rende merito agli avversari bolognesi. Vorrei fare complimenti, fortitudo, perché hanno vinto con pieno merito. Noi mai siamo riusciti a prendere il ritmo della partita, sia in difesa come in attacco o in attacco contro Cambi. Dovevamo attaccare a modo come abbiamo parlato prima della partita, mai siamo riusciti, mai siamo riusciti a produrre tiri facili e nello stesso tempo in difesa onestamente senza focus, con tanti canestri subiti da sotto facili, ritardo in rotazioni, dopo raddoppi, senza tagliafuori. Una difesa che onestamente non ha fatto suo dovere, diciamo così. Mi dispiace, ma è stata una pessima partita da nostra parte e da tutti i punti di vista. Male la VL, bene la Vispesero, che sabato ha trovato la prima vittoria in trasferta della sua stagione. A Imola i Biancorossi vanno sotto per il gol di Moracchioli, ma rimontano nella ripresa grazie alla doppietta di Flavio Lazzari, bravo a capitalizzare un'assist di De Feo e trasformare un calcio di rigore conquistato dallo stesso De Feo. Con questa vittoria la Vis supera Imolese e Legnago uscendo dalla zona retrocessione. Il primo tempo è stato un primo tempo un po' non bello, dove ci siamo fatti addirittura gol da soli, però poi c'è stata una grande reazione, una voglia di riacciuffare una partita nata male e la mia squadra è quella al secondo tempo. Io vorrei che giocassero sempre con questo piglio, con questa aggressività e con questa voglia di andare in avanti e nell'aggredire. Così è stato il secondo tempo e ci ha permesso appunto di ribaltare questa difficile partita. Buon momento anche per l'Alma Juventus Fano, che dopo il pareggio di Pesaro e la prima vittoria di mercoledì sul Legnago, questa domenica ha fermato sull'1-1 la Feralpi Salò al Mancini, con parlati bravo nel secondo tempo a riacciuffare il vantaggio di Scarsella. Sì, era quello che ce l'avevamo detto negli spogliatori, tra di noi e col ministro, anche dare continuità alla vittoria con il Legnago. Ci siamo riusciti in parte perché, visto la gara come si era messa anche lì negli ultimi minuti, si poteva fare un pochino di più, cercare anche la vittoria, però teniamoci stretto questo risultato, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e pensiamo già alla gara scontro diretto con la ressa che abbiamo tra due giorni. Sorride anche l'Ital Service Pesaro, che nel campionato di calcio a 5 ha vinto 3-1 il big match contro la Sandro Abate Avellino. Merito dei gol di De Oliveira, Borruto e Taborda, bravi a rimontare il vantaggio dei campani. Una vittoria che mantiene l'Ital Service al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Acqua e Sapone. E con le notizie sportive si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata, perché alle 21.15 andrà in onda l'approfondimento sull'Ipsia Benelli, l'orientamento ai percorsi di studio in questa importante scuola pesarese nel campus scolastico. Mentre domani sera vi ricordiamo che sempre alle 21.15 la prima serata sarà dedicata al Pesaro Music Awards, il premio organizzato assieme a Sinfonica 3.0 Digital Edition che abbiamo trasmesso in streaming sabato sera in diretta e che vi riproponiamo appunto domani sera sul nostro canale 633 delle Digitale Terrestre. Ed è davvero tutto per questa edizione di Rossini News. Vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV torna domattina puntuale alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini in diretta appunto dagli studi di Rossini TV. Da tutta la redazione un cordiale saluto e un buon proseguimento con i programmi di Rossini TV.